fare in pista agli atleti felice di Roma e serena battaglia che ci presentano il dolore posizione e musica e si guarda apri gli occhi chiama il capo e la vedi subito se siamo noi mi senti sistemiamo tutto ma non ci lasciare la pressione scende che è successo né io né tu nessuno può colpire duro come fa la vita perciò andando avanti non è importante come colpisci l'importante è come sai resistere ai colpi come incassi e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti la forza di rialzarti tutte le persone che anche per un secondo sono accanto si ritrovano all'improvviso con la voglia matta di lottare i propri sogni e grazie a tutti felice e grazie a tutti grazie a tutti